Grazie Presidente. Informo tutti, la Consiglia Grancio e tutti i presenti all'Aula, che su questo tema questa amministrazione ha posto una grandissima attenzione e si sta creando una new co, una nuova società, una nuova società che porta i servizi che fino a oggi sono stati forniti da multiservizi in una società proprio di primo livello al 51% di Roma Capitale. A oggi è al 51% di AMA, per cui di secondo livello, attraverso multiservizi. Per cui cambia il nome, ma nell'azione che questa amministrazione sta svolgendo è proprio il passaggio da un secondo livello a un primo livello, con una new co e negli atti che noi abbiamo approvato anche in quest'Aula poniamo la massima attenzione alla tutela della forza lavoro. Per cui noi riteniamo che questo ordine del giorno non entri nel merito esatto della questione, dunque voteremo contrarie. Grazie.